Sì, dominata, diciamo condotta più che dominata perché siamo stati poi, il massimo nostro vantaggio è stato nei primi due quarti, poi abbiamo giocato veramente un punto a punto, abbiamo preso 5 punti credo o 6, adesso non ricordo bene, nella parte finale. E' la verità che lì dovremmo leggere bene gli ultimi tre minuti, capire dove ci sono stati i meriti di Avellino, dove iniziano i nostri demeriti, fare una piccola analisi e poi ripartire dagli altri 37. Riccardo abbastanza, nel senso che ha fatto fatica, completamente dentro la serie mentalmente perché è pronto, è carico, sta facendo un po' fatica a prendere il ritmo delle proprie cose anche credo per merito di Avellino. Amedeo invece oggi ha giocato un'ottima partita, c'era, dopo abbiamo così cavalcato un certo tipo di quintetto fino alla fine della partita, però Amedeo c'è, ha fatto più fatica in gara 1 ma in gara 1 noi non siamo pervenuti, quindi se andiamo a vedere chi c'era e chi non c'era diventa molto difficile. Oggi invece siamo stati bravi tutti a dare un piccolo contributo e questo deve essere molto importante per il futuro. Il gusto di tornare in casa avendo dato un segnale ai nostri tifosi, questo è una cosa molto importante per noi, per far vedere che se noi giochiamo un certo tipo di pallacanestro e abbiamo un determinato tipo di atteggiamento possiamo fare delle ottime cose. E il gusto di dare un segnale a Reggio perché dopo gara 1 se avessimo giocato un'altra gara del genere sarebbe stato difficile chiedere ai nostri tifosi supporto. E invece adesso in questa partita possiamo a tutti gli effetti chiedere ai nostri tifosi di crederci insieme a noi.